Nonostante l'aver tenuto in mano il pallino del gioco per buona parte della gara e l'aver costruito diverse opportunità, il notaresco è costretto all'1-1 interno dal team Nuova Florida. La prima opportunità all'ottavo è per gli ospiti con un cross e la deviazione in spaccata di Sebastiani che sorvola la traversa. Il notaresco pian piano alza il baricentro aumentando sempre più la pressione. Al 34esimo una punizione dal limite di Mercado e respinta dalla barriera il nuovo tiro ancora di Mercado viene deviato in angolo da Giordani. Al 42esimo azione insistita ancora del notaresco sponda di testa di Cardinali, Giordani smanaccia, poi sul successivo angolo scimia, conclude alto dal limite. Poco prima del riposo al 46esimo Cardinali riceve sul filo del fuorigioco, avanza e conclude in diagonale e ancora Giordani toglie dall'angolino basso. Al primo minuto della ripresa Muzzi su punizione sfiora la traversa, poi all'undicesimo il notaresco passa in vantaggio. Cardinali cede a mercato, grande apertura a cambiare campo all'interno dell'area di rigore e Bartoli dai 15 metri in sacca l'uno a zero. Il team Nuova Florida prova a replicare al ventunesimo con Muzzi che di testa alza la mira, poi al trentatresimo. Cross dalla tre quarti di Moretti, diagonale ravvicinato di Contini e Penco è il più lesto per il tap-in dell'uno a uno. Il notaresco non ci sta e prova nuovamente a riversarsi in avanti al 42esimo. Gurini dal fondo e conclusione alta di scimia dal limite, poi l'ultima opportunità al novantesimo e per Romano che stoppa e controlla a centro area, non centrando però la porta. Sì, non sono contento assolutamente del primo tempo dove abbiamo concesso troppi passaggi, non occasioni ma troppo gioco al notaresco anche per merito loro. Invece poi nel secondo tempo abbiamo variato qualcosina, siamo andati meglio, purtroppo siamo stati superficiali in una gestione della palla. Abbiamo preso l'1-0, però poi abbiamo avuto una discreta reazione e dopo l'1-1 abbiamo avuto anche una buona, diciamo, mole di gioco e una proposizione offensiva, ma comunque non è mai stata alla fine pericolosa, quindi reputo che poi alla fine il pareggio poteva essere il risultato più giusto, purtroppo. Sì, però ci sono state anche due occasioni per noi, poteva andare meglio, soprattutto nell'ultimo passaggio, insomma alla fine eravamo stanchi tutti e due, i reparti erano molto lunghi e poi tutti e due avevamo voglia di vincere la gara e alla fine non è stato per nessuno così, quindi un punto che non accontenta nessuno, però insomma noi teniamo un po' lontano la zona calda e pensiamo subito alla prossima. C'è ramarico perché credo che abbiamo disputato un'ottima partita, abbiamo creato tanti presupposti per fare gol, alla fine rischiando poco credo, a mente credo che non abbiamo subito così tanto, siamo stati penalizzati su questo cambio gioco, poi devo rivedere, però dobbiamo stare più attenti, più concentrati su queste situazioni, perché appena succede qualcosa che non riusciamo a tenere sott'occhio, prendiamo gol, siamo anche sfortunati su questo aspetto. Però sono molto contento della prova dei ragazzi, abbiamo creato tanto anche nel finale, questo significa che comunque volevamo vincere a tutti i costi, sempre con equilibrio, c'è molto ramarico, però guardiamo il futuro con fiducia, perché se continuiamo a fare queste prestazioni credo che comunque qualche vittoria la porteremo a casa da qui alla fine. Sì, avevamo qualche assenza, ma questo non deve essere un alibi per noi, anche la partita scorsa l'Avezzano ha fatto poco, ma ha fatto gol, significa però che comunque noi in alcune circostanze abbassiamo l'attenzione, questo per noi non deve accadere più perché per portare a casa i tre punti la concentrazione deve essere ottimale e al massimo fino al centesimo minuto. L'abbiamo abbassata per qualche istante e abbiamo preso gol.